Tra i due e gli otto anni di carcere per nove persone accusate di organizzare campi di addestramento per terroristi in Afghanistan e di aver pianificato attentati in Francia, la rete era stata smantellata nel 2010. Dei nove condannati, tre erano assenti, due sono tuttora latitanti, il terzo è detenuto in Turchia.